Ma adesso ancora siamo indietro, nel senso che abbiamo appena cominciato, quindi siamo ancora nella fase divertente senza strema, adesso siamo tranquilli, cioè adesso siamo ancora nella fase dove ci possiamo permettere di divertirci perché ancora non abbiamo la pressione della scadenza, stiamo buttando giù le idee, ci stiamo divertendo, le riascoltiamo, mettiamo una robina oggi, un'altra cosa domani, ci mandiamo i file a posta elettronica, poi ci troviamo, le suoniamo insieme, così ma ancora senza pressione. Tanto le registrazioni diciamo vere dell'album cominceranno probabilmente per la fine dell'estate, quindi adesso siamo ancora nella fase di lavorare sui pezzi, poi dopo, a fine estate cominciamo a fare sul Serico, allora lì smette il divertimento e lì comincia la vera miniera, che è molto stimolante ma anche c'è molta responsabilità, perché comunque sono passati molti anni da Line of Fire e poi vogliamo fare un bel lavoro.